Storia della razza. La scoperta di un gatto selvatico mediorientale in una tomba di 9.500 anni a Cipro, è l'esempio più antico di un gatto strettamente associato all'uomo fino ad oggi. Gli archeologi guidati da Shangui-Lain, che lavoravano nel sito neolitico di Shilurokambos, hanno scoperto resti di gatti accuratamente sepolti, insieme a resti umani e manufatti decorativi, su un'isola separata dalla terraferma anche prima dell'insediamento umano, indicando la comparsa di gatti nell'area. L'indagine ha mostrato che una piccola fossa o una tomba è stata scavata deliberatamente, e il corpo del gatto è stato posto al suo interno, e poi rapidamente riempito. Lo scheletro di un gatto risale a immagini egiziane di gatti per 4.000 anni o più. Non ci sono prove che i gatti moderni di alcun tipo discendono dagli antichi gatti selvatici ciprioti, tuttavia, sia la WCF che la Tica ribadiscono le affermazioni degli allevatori su questo lignaggio. I gatti ciprioti moderni sono molto probabilmente associati al monastero di San Nicola, fondato nel IV secolo d.C. Si trova vicino ad Acrotiri. Secondo la leggenda bizantina, Elena di Costantinopoli, Sant'Elena, inviò centinaia di gatti dall'Egitto o dalla Palestina a Cipro nel 328 d.C. per combattere i serpenti velenosi che hanno invaso l'area intorno al monastero dopo 37 anni di siccità. Il monastero aveva due campane. Una per chiamare a mangiare i gatti, e l'altra per mandarli nei campi a cacciare i serpenti. La popolazione di gatti in questo luogo, oggi è un convento di suore, un tempo era diminuita, ma ora si è ripresa grazie alle cure delle suore locali. Il premio Nobel Giorgo Seferis ha scritto di questi gatti nella sua poesia I gatti di San Nicola. Questa storia è una leggenda, e oggi è impossibile sapere con certezza se navi con gatti, siano state effettivamente inviate a Cipro nel IV secolo. Sebbene i gatti siano sicuramente arrivati sull'isola, spesso come gatti di nave, nel corso dei secoli. Il World Cup Congress è dell'opinione che i gatti ciprioti si siano evoluti nel tempo nella parte montuosa dell'entroterra di Cipro da varie popolazioni di gatti intorno all'isola, e siano diventati abbastanza grandi da gestire prede relativamente grandi come rati, grandi lucertole e serpenti in un ambiente fresco atmosfera. Sia il WCF che il TICA notano che lo spessore del mantello dei gatti afrodite di razza pura di questa popolazione varia ancora con la stagione. I riassunti delle altre due organizzazioni sono sostanzialmente coerenti con questo punto di vista, anche se non è chiaro chi abbia preparato per primo questo rapporto sulle origini, e su quali basi. Non è chiaro se i gatti ciprioti siano strettamente imparentati con la più ampia landrace dei gatti dell'Egeo nella Grecia continentale e insulare. Ad oggi, i test genetici hanno dimostrato solo che i gatti ciprioti sono abbastanza diversi l'uno dall'altro per riprodursi da loro. Gli allevatori locali hanno iniziato nel 2006 cercando di allevare una razza standardizzata da gatti selvatici locali. Nel 2008, un giudice di tutte le razze della WCF ha visitato Cipro per lavorare in una mostra felina ed è stato presentato a un allevatore di gatti di razza creato nell'ambito di questo programma di allevamento di prova da gatti ciprioti. Scrisse un punto di riferimento per lo standard preliminare e li chiamò Afrodite il gigante. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione della WCF hanno consigliato di mostrare questi gatti al di fuori di Cipro in modo che diventino più famosi tra gli appassionati di felini. Successivamente, un gruppo di persone interessate a Cipro ha deciso di formare un club denominato Kyprus National Cadbury & Association che ha richiesto l'approvazione del governo ed è diventato operativo alla fine del 2009. E poco dopo, il club Cipriota ha chiesto di aderire alla WorldCat Federation nell'aprile 2012. Inoltre, è stato deciso di inviare una lettera a un importante genetista felina, Leslie Lyons dell'Università della California, Davis, chiedendole di accettare i test del DNA su gatti ciprioti selezionati per vedere se potevano essere identificati geneticamente come razza separata. Punto il professore, che presto intendeva iniziare ulteriori ricerche sui gatti Turkish Van e Turkish Angora, ha accettato di studiare i campioni inviati da Cipro. È stato studiato un totale di 248 gatti, inclusi diversi gatti ciprioti casuali per il confronto. Tutti i gatti sono stati esaminati in un'unica ampia analisi. L'analisi ha classificato i gatti esclusivamente sulla base della variazione genetica e non di qualsiasi altra identificazione. Un rapporto del gennaio 2012 ha concluso che i gatti ciprioti rappresentano una popolazione speciale nel Mediterraneo. Il 1 luglio 2012, il gatto è diventato una razza pienamente riconosciuta dalla World Cat Federation, originariamente come il gatto gigante a pelo lungo di Afrodite. Oggi è riconosciuta anche la variante a pelo corto. Nel settembre 2017, Afrodite è stata riconosciuta dall'International Cat Association come nuova razza provvisoria. Diversi membri di questa associazione hanno avviato programmi di allevamento di Afrodite in Europa, Asia e Stati Uniti. Nella terminologia degli allevatori, è una razza naturale o tradizionale. Una razza allevata da un allevamento locale per mantenere le sue caratteristiche di base, piuttosto che creata dagli allevatori per ottenere nuove caratteristiche. I gatti ciprioti, noti anche come gatti di Sant'Elena o gatti di San Nicola, sono gatti domestici antiquati originari dell'isola di Cipro. Da loro si sviluppa una razza standardizzata, ora questa razza è pienamente riconosciuta dalla World Cat Federation, e l'allevamento di questi gatti chiamati Afrodite è regolato dal World Cat Congress, e provvisoriamente dall'International Cat Association. Tutte e tre le organizzazioni consentono versioni a pelo corto e semilungo e vietano gli incroci con altre razze. Aspetto? I gatti ciprioti hanno un pelo piuttosto spesso. Le popolazioni di fauna selvatica si trovano in tutta l'isola di Cipro, dalle regioni montuose e più fresche alle aree più basse e più calde a largo della costa, comprese le città. Pertanto, questo gatto si è adattato a diversi climi e cambiamenti stagionali. Lo standard richiede che la cat cipre sia grande, forte e muscolosa, anche gattina. I gatti possono essere a pelo corto o semilungo e di qualsiasi colore diverso dal colorpoint o dal visone, derivato dal gene birmano. Il pelo deve essere morbido e di lana, d'inverno più lungo, con sottopelo e sempre senza strato superiore, tranne forse sul dorso. Lo standard non stabilisce regole di allevamento e temperamenti per questa razza, ma stabilisce invece regole di allevamento per il World Cup Congress, che non consente incroci se non tra le varietà a pelo lungo e a pelo corto della razza. Il WVC ci chiede ai giudici di squalificare gli esemplari più piccoli per preservare il carattere di grande ossatura della razza. Le organizzazioni WVCF e TICA sono in netto disaccordo tra loro sul tasso di maturazione dei gatti, probabilmente a causa delle differenze nella base delle loro varietà di razza. Lo standard WVCF afferma che si sviluppano rapidamente, mentre TICA afferma che maturano relativamente lentamente e impiegano dai 3 ai 5 anni per raggiungere la piena dimensione. L'organizzazione TICA li descrive nello standard come affettuosi e socievoli e in qualche modo canini nei confronti dei loro proprietari. Prezzo e come acquistare correttamente. Il prezzo medio di un gattino è compreso tra US 300 dollari e US 600 dollari. Linea di fondo. La prima menzione scritta conosciuta di gatti a Cipro risale alla storia di Sant'Elena di Costantinopoli, che inviò due barche di gatti a un monastero su un'isola dall'Egitto o dalla Palestina nel IV secolo d.C. per far fronte a invasione di serpenti. I gatti a Cipro, sono stati in grado di riprodursi per secoli con relativamente poca influenza esterna, ciò ha portato all'emergere di una distinta specie di gatto adattata localmente che sembra essere diventata una popolazione selvatica negli altopiani interni, sebbene ora si trovi in tutta l'isola. Mentre i gatti selvatici associati agli umani a Cipro risalgono almeno al 7500 H. E è il primo collegamento provato tra gatti e umani. Sebbene non vi sia alcuna connessione nota tra questi antichi esemplari selvatici addomesticati e i moderni gatti domestici ciprioti.